Ricondurre la competenza legislativa e la potestà di regolamentazione del settore del commercio, alle regioni e agli enti locali affinché possano pianificare la turnazione delle festività lavorative per garantire i diritti dei lavoratori e dei consumatori e la richiesta contenuta in una mozione a firma lunga e indirizzata nel Parlamento del Governo nazionale. L'iniziativa parte dal gruppo del Movimento 5 Stelle ha tenuto l'adesione del Vice Presidente della Regione Bolzonello e di consiglieri di tutti i gruppi PD, PDL, Lega Nord, Cittadini, Sinistra Ecologia e Libertà, Autonomia Responsabile e Gruppo Misto. Il documento richiama il decreto Monti, poi convertito in legge, che ha normato la liberalizzazione degli orari e delle aperture degli esercizi commerciali senza estizioni e su tutto il territorio nazionale a distanza di più di un anno. Da quel provvedimento, sottolineano i firmatari dell'emozione, non si risconta alcuna diminuzione dei prezzi se si registra una contazione delle aspetto delle famiglie, i posti di lavoro sono addirittura canati e il PIR ha segnato un ulteriore segno meno. Il decreto Monti non ha fatto altro che rafforzare la grande distribuzione organizzata e a scapito dei piccoli negozi di vicinato che non possono competere sugli orari di apertura 624 dei quali, dato a ConfCommercio, nelle frule Venezia Giulia, hanno chiuso i battenti solo nei primi sei mesi dell'anno. Alla Camera dei Deputati sono già state presentate tre proposte di legge di iniziativa parlamentare del Movimento 5 Stelle, PD e PDL e una proposta di legge di iniziativa popolare. Al momento i quattro provvedimenti sono stati ordini e posti all'ordine del giorno dalla Decima Commissione di Attività Produttiva. L'adesione al documento da parte del Consiglio regionale è stata unanime e la Giunta ha anche accolto con un preciso impegno, ha dichiarato il Vicepresidente Bolzonello, un'ordine del giorno anch'essa firma dei consiglieri di tutti i gruppi che la impegna a farsi carico delle numerose istante sull'evidente insostenibilità derivata dall'indiscriminata apertura dei negozi.